Il sindaco di Tortorici, Carmelo Rizzonervo, è stato designato vicepresidente dell'ente Parco dei Nebrodi in sostituzione dell'ex sindaco di Caronia, Rino Beringheli, il cui mandato è cessato lo scorso maggio. La nomina di Rizzonervo è avvenuta nel corso dell'ultima seduta del Consiglio dell'ente, che ha ratificato anche la conferma dei componenti già in carica del comitato esecutivo. Si tratta dei sindaci di Cesarò, Salvatore Calì, Longi, Alessandro Lazzara, Acquedolci, Ciro Gallo e Caronia, Salvatore Donofrio. L'organo di amministrazione è stato quindi prorogato fino al prossimo mese di maggio. Ai quattro componenti nominati dal Consiglio si aggiungono per statuto i componenti di diritto del comitato esecutivo, il presidente del Parco dei Nebrodi e il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina. Il Consiglio ha inoltre stabilito un metodo di lavoro individuando delle macro aree, ciascuna con proprio rappresentante, per arrivare nel prossimo mese di maggio alla votazione definitiva dell'intera compagina amministrativa. Al termine della riunione, soddisfazione è stata espressa dal presidente del Parco, Giuseppe Antoci, per la maturità dimostrata nell'individuare un metodo operativo che darà dignità ai vari territori, preservandone la presenza all'interno del comitato esecutivo.